Ascolti TV ieri, tutti i dati, le male, GF Vip Fulgente, riporto che i dati, dettagli e approfondimenti sullo serie e sugli ascolti televisivi dei programmi in onda lunedì 19 dicembre 2022. Il grande fratello Vip 7, dopo il forte calo registrato sabato scorso, complice la prima finale di Ballando con le stelle. Torna a essere fulgente e marciare a ritmo sostenuto, intercettando due, otto milioni di utenti e il 23. 2% di share. Nettamente battuto Rai 1, che con il film Le Mans 66 la grande sfida ha coinvolto poco meno di 1. 9 milioni di spettatori, 12, 1%. Un dato per nulla entusiasmante. Bene report su Rai 3. Con 1, 9 milioni di utenti. Numeri sufficienti anche per Rai 2 e Italia 1. che hanno trasmesso rispettivamente un bacio prima di Natale e di Ard un buongiorno per morire. Di seguito tutti i dati relativi al prime time di lunedì 19 dicembre 2022. Striscia la notizia fa incetta di ascolti e batte i soliti ignoti. Drusilla Gucci cala al 2,7%. Striscia la notizia fa incetta di ascolti e battery. per cento. Grazie mille Grazie mille